Ciao a tutti ed eccoci qua in Paper Mario Color Splash Andiamo nella via Scarlatta, facciamo quindi il secondo lì bello Yes Vediamo, c'è da colorare un sacco Dobbiamo trovare queste stelle Non mi ricordo il nome E così è qui che si ha Ah, la via Scarlatta No, la via Scarlatta è la via Bene Mario, mettiamoci subito Vernistella A trovare la Vernistella Dai, torno, vai Tra l'altro deve Dobbiamo, cioè, o comunque Non so se lo dobbiamo trovare Deve ritornare il tipo che aggiusta il ponte Che nel primo livello c'è una parte di città bloccata Me lo devo ricordare Me lo devo ammettare Oh là, questo qua lo riconosco Che cos'è? Oh, un bel martello Coloriamo questo fungo, bene Un'altra carta, colorata Fiore di fuego Andiamo Ma cazza, cazza Colorà Oh là, bene, bene, bene Poi vediamo un po', vediamo Qui Coloriamo Oh, soldini per noi E anche colore Ma l'abbiamo già Pieno il rosso Vai, 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 vai Allora, se io schiaccio i fiori Se io schiaccio i fiori Ecco, se io Appunto Oh Yeah Boh, anche una carta Ma dai lusso per voler schiacciare i fiori Che mi esce Qua la bella amice Che è piena Allora, possiamo Vediamo qui cosa mi esce Un bel verde E abbiamo già i colori pieni Ah, magari questa casa Eh, se la coloriamo Eh, pata Sì, ma questa è proprio Cioè, è ultra mega Non coloro Ah, pensavo di essere caduta di sotto Mio urlo Di non gioia Eh, ritorniamo di qua Giriamo Giriamo, giriamo Saltiamo, saltiamo, saltiamo Che c'ho da veniciare Marco, fosse un imbianchino Non era un idraulico Mario E' diventato anche imbianchino Bene, bene Facciamo tutti i bestieri Ok Vai, manca questo punto qui Questo qui Questo qui Oh Ale Oh, questa era veramente Tosta, eh Mamma mia, quante carte C'è, martelli a noi Io quasi quasi Ritorno qui E tiro martellate a tutto spiano La E sotto La A posto Proseguiamo Aspetta, aspetta Perché qui vedo qualcosa di strano No? C'è un tondo Forse devo tirare giù Oh, bene Questo E due Forse tirando giù Ok Mamma mia Mega colorazione Suprema Mega Vernice Qui cos'è? Un colore chiaro Buono Carte Vai, vai Rifornimento di carte Salto spento Te per tre Va bene Chiazza Chiazza Bene Se i soldini ci servono Buono No Pensavo di cadere di sotto Oh la la Qui? Che sta succedendo qui? Eh, lo stavo dicendo anche io Giusto appunto Ah, ballano Oh, sciuccia cannucce Fanno anche i balletti Cioè, so ganzi Eh Basta Oh All'attacco Voglio fare subito il salto Triplo La voglio provare Fatto Coloro Fatto Lancio Vai Tre salte Ho premuto Ho premuto un po' tardi Ah, è caduto Meno male Oh, martello colorato Vai Vai Il ballo aiuta a concentrarci Eh Va bene Ah, se non la tiro Vedrai si sta ora Ah, l'ho caricato male Poco Parata Eh Vai di pestata Fatto Lancia Fatto Lancia Vai Doppia pestata Ma niente Parata Ciao Ciccio Oh, ma si è ricolorato Martelliamo Martelliamo di nuovo Dai Fatto Fatto Ale Colpo supremo Ci sto prendendo Confidenza Oh, ci sono altri Che ce ne sono altri Ah, se ne stanno andando Paura, eh Oh no, stanno scappando Eh, sì Non lasciamo di sfuggire Sì, sì, aspetta Se continuano ad ancugiare colore Quest'isola diventerà un po' stonorioso Sì, ma ora le riprendiamo Vai, vai Che ampliamo anche il Martell Colore, colore Picchia, picchia Ah no, ho sbagliato Picchia, picchia Vai, vai Ale, anche un fiore Ma vada quanto hanno ciucciato Di colore Ah, ce l'ha fatta No, no, torna indietro No, volevo tornare indietro C'era una strada Di qua Aspetta Vediamo di qua Ah, punto di salvataggio Sì, buono Il checkpoint Tipo No, ho sbagliato E questa? Ale Ho ripreso i punti Ehi, te Eccolo un altro Sì, sì Vai Sì, lo so Lo so, lo so Vai, vai Se lo salto Sì, sì, sì Ciao Bel colpo Qui non si scherza All'attacco Vai col pestone Fatto Coloro Fatto Via Boittone Ecco i baffi Colore a noi La lamma Martellata No Vai, caita Martello consunto Bella E ora Andiamo Ah, succhiato parecchio Ah, guarda Manco fossero succhi di frutta Vai Martello consunto Col sunto Col riassunto Andiamo un attimino di qua Voglio vedere cosa c'è Leggi occhio e ladri di colore Bene Guarda, guarda Questo fiore lì Non è colorato Aspetta Fammi scendere un po' di colore Eccolo la mia vernistella No, ma è mezza colorata È stata più facile Di quanto immaginavo Dai, andiamo a prenderla Così puoi indicarci la via Per la prossima Arrivo Arrivo Colore L'ho toccata però Eh, ma perché non funziona? Perché non è colorata Per tutte le latte di acqua Che sta succedendo? Guarda, il colore è stato risucchiato via Certo che quelli Che stiamo vivendo Al giorno d'oggi Sono proprio tempi due Brutto, ma scalzone Eh, lo dico anch'io Dobbiamo raggiungere Giustale Subito questa povera Vernistella Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Verde, verde Vai Rosso, rosso, rosso No, l'ho ciccato Guarda, nel gamepad Sì, martellata Fatto Martello colorato Vai Uh, bel colpo Bel colpo Scusate, ma Voglio proprio vedere Se davvero questa fattoria È così buona Mi diano tutti Vabbè Ah, quindi Ah, niente Cioè Questi sono qui A Proprio a Ero così Elettrizzato per essere Il primo della fila Che mi sono scordato Che se era Legge al caffè Parliamo col Todd Mare, è vero che ci hai salvato Un mucchio di volte Ma questo non ti dà diritto Di tagliare la fila Intesi? Ah, ok Non è che volevo tagliare la fila Voglio sapere che cosa sta succedendo E intanto ho visto qualcuno Nascosto per qua Dov'è? Carta Ok, carta Eccolo Bel colpo All'attacco Martello Fatto Vai Vai Benissimo Addirittura Ancora noi? Allora Aspetta Fa vedere Questo Salto spento No, non l'ho colorata Dietro Vai Fatto Vai Doppio Vittoria Con i baffi Non si scherza Oh Guarda quanta roba Ci ha mollato Qui questa Tata Luga Vai Oh Carta Carta colorata Bene, bene, bene Ok Vai che ricarichiamo Il martello Perfetto Colore rosso Colore rosso Rosso, 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 rosso Oh, oh Verde Ok Mi sto perdendo Dov'è quello con la venina? Ok, che quello non ci si può saltare Perché c'è lo spunzone Però Aspetta un attimo Ci portano tutte e due le strade Sulla stessa Oh, lì c'è una V Eh no, è qui È Arrotolato Con calma Lo facciamo Questo livello Adesso Bel colpo L'ho colorato Ma non importa Devo prendervi Alle Allora Non posso saltare Quindi Cioè Fatto Bel martello Fatto Vai Bel colpo Adesso posso saltare Vai Stanto sono bella Cari No, no, no Dietro Non ho colorato Dice sono cari di colore Quindi ho preso una carta Che non era colorata L'ho colorata E via Ciao Vai Uh Guarda quanti punti Martello Ok Salto per noi No Ah, che fortuna Non male Ho premuto il martello Pensavo di averci saltato sopra Ma in prospettiva Non è Oh, un altro Vai Quella che ho preso prima Fatto Colora Fatto Lancia Doppio Salto Parata Vediamo Questa Proviamo questa Che l'avevo presa Al negozio Mentre non ho registrata Parata Vai di questa Vai in un salto spento Lancia E via Vinto Bene, bene Martello Punti Martello Tipo timido Rosso E che sarà Poi va provato Quanti fiori Da colorare Eila Forse Forse prima Devo colorare Le fiori Riprendessi Le colorerei Ce l'ho fatta Balzofa Balzofola Quella Quella ci fa balzare Si è fatto Il giro Vedo un baratto Di vernice Qui Che è Si nascondeva Maledizione Mi ha beccato Mi rendo Vieni Che si trova Tutto il colore Che ho rubato Dai che accompagna Ma io mica Mi fido E come si fa Qui Tira Ah eccola Vai Ale Via Non ci fare Non ci tirare I tiri manciuini Vi sono tutti al caffè Ecco qua Ora Riverserò il colore E la vernice La sera come nuova Ci stiamo osservando Sì Non ci fidiamo Ale Vernistella Allora adesso posso andare Perché mi risparmi Non è così Ma se Te risparmiamo Sei stato bravo Abbiamo fiducia Forse era meglio Se non avevo fiducia Aiuto Corri 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 No No Livelli a corsa No Io sono negata Che livelli a corsa Dai tempi di crash Bendico Scott Ci hanno piegato Il tutto Hanno arrotolato la via Scarlatta La mia caffettiera È tra le nuvole Ora come faccio Il marchio caffè Tra le nuvole Sarà già registrato Mario Mario non è che tu Insomma Non è che riusciresti A strorotolare la via Adesso ci proviamo Come si fa Proviamo Ah aspetta 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 Ok Dobbiamo fare il giro Sicuramente Abbiamo colorato Tutto Ho fatto bene Non ci si deve fidare Di questi Maldestri Stacca Vai 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 Stacca l'adesivo Oh Punti vita Ma intanto Vado a prendere La stela Che non l'ho presa Se no poi Mi rimane lì Aspetta Però Ah sì Sbrighiamoci Allora Sì però Se vado oggi il corso Una Zone colorate Il 92% Aspetta un attimo Ritornate un attimo Indietro E vi porto con me Per capire Un po' come È strutturato Questo gioco Perché Io avevo scelto La via in basso Però Sì Sì Quando sei nei livelli Già completati Almeno una volta Premi più In qualsiasi momento Per tornare a mappare il mondo Ok Va bene Andiamo Perché mi è venuto Mi è sorto Un dubbio Eh Bene sì Questo l'abbiamo già Verniciato Perché qui Io ho scelto Direzione in basso Però Quegli altri E' andata in alto Eh È passato di qua E' tornata indietro Vediamo un po' 92% Quindi quasi Completa Al 100% Bene Un'altra cartuccia No Era meglio Se saltavo Non volevo tirare la martellata Guarda il gamepad Fatto Ho scelto Questa Adesso ve lo faccio vedere L'ho colorata Il triplo salto Bene Vai Vittoria 25 Bene 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 Colori a noi Martelli a noi Oh carta Salto spento Oh che c'è qui Ci sono dei Tipi loschi Ci sono dei Tipi loschi Beh In cerchio non andiamo E succhiamo via il colore Va bene Questi So birbante L Vai Martello Consunto Per tre Colorato Era già colorato Questa Bel colpo Uh non ho difeso bene Ho tenuto un po' di ritardo Vai Saltato male Ale è parata Martellata Coloro Fatto Invia No Eh Ho sbagliato Ma va bene Data di lusso Ho del colore a noi E te Chi sei Salve Mario Sono il capitano Della squadra di soccorso Viola Ok Ci risulta che gli abitanti Della zona Riscontrino molte difficoltà Nel superare queste pareti Montuosa Per cui siamo subito Mobilitati Per risolvere il problema E quindi Desgracciatamente Nessuno dei miei tre membri È ancora arrivato Quegli scansati fatiche Dovrebbero essere lì Già da molto tempo Se ti impatti in qualcuno di loro Non esitare Per dirlo qui Intesi Posso Posso chiudere Voi della squadra di soccorso Siete proprio tosti Mi piace il colore degli uniformi E la scelta del Fulao Ti ringrazio Ma l'essenza della squadra di soccorso Non risiede Nelle loro vestite Nelle loro uniformi E Fulao All'ultimo Grido La nostra missione consiste In far trionfare la giustizia Nel mondo Va bene Se vuoi parlare con il generale Puoi trovare il nostro quartiere generale Nel quartiere giallo Di Porto Prisma Sì Ma il Porto Prisma Non è tutto aperto Però quindi Mancano E quindi qui Mancherebbero I tre tizi Quindi ci dovremmo ritornare Anche qui Bisognerebbe Bisognerà sbloccare Allora Vai per Non ci siamo imbattuti Sì Torniamo alla mappa del mondo Perché non ci siamo imbattuti Negli altri due viva Benissimo Quindi Non si Non spediamo la cosa In via Scarlatta Ci manca sempre Della gente Per poter finirla Al 100% Che dirvi Io Vi ringrazio per aver visto il video Fino a qui Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Commentate Fatemi sapere Cosa ne pensate Qua sotto Nei commenti Mettete un mi piace Condividete il video E adesso uno Ciao a tutti E alla prossima